Non sono stati indifferenti, potevano anche non intervenire, girare le spalle e far finta di nulla. Non l'hanno fatto, sono stati fermi e hanno affrontato il potenziale pericolo. E il ricordo dell'appuntato Stefano Condello e del carabiniere Vincenzo Caruso, i due militari dell'arma uccisi dall'Andrangheta incontrata a Razzà a Taorianova, il 1 aprile del 1977. Come ogni anno da 41 anni a questa parte, l'arma dei carabinieri ha ricordato l'eccidio dei suoi commilitoni. Prima con una deposizione di una corona nella piazza e nell'obelisco che li ricorda, poi una messa e il loro suffraggio. La celebrazione quest'anno ha portato con sé anche la commemorazione del carabiniere Rosario Iozzia ucciso a Cittanova il 13 aprile del 1987. Per l'occasione è arrivato il generale Vincenzo Paticchio, comandante della Legione Calabria, il generale interregionale di Sicilia e Calabria Luigi Robusto. Insieme a loro il prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari, il comandante provinciale, il colonnello Giuseppe Battaglia. Presenti alla commemorazione i sindaci di Taorianova e Cittanova Fabio Scionti e Francesco Cosentino, il vice sindaco metropolitano di Reggio Riccardo Mauro, i familiari dei tre carabinieri trucidati e il presidente della Commissione Antimafia del Consiglio regionale Arturo Bova. Tante le scolaresche presenti nella piazza e in chiesa, a celebrare la funzione religiosa il vescovo di Oppido Palmi, Francesco Milito. A 41 anni dall'eccidio di Razzà, la commuzione è ancora palpabile, le presenze istituzionali importanti della giornata sono lo specchio che il ricordo di quelle stragi non è un format predefinito, non è il solito cliché. È qualcosa di vivo e presente tra i carabinieri e nella società civile. Il primo aprile del 1977, alle 13, tre militari del nucleo radiomobile della compagnia di Taorianova, l'appuntato Stefano Condello e i carabinieri Vincenzo Caruso e Pasquale Giacoppo, interruppero un vertice di indrangheta in contrada Razzà. Quel giorno i tre carabinieri in una casa colonica avevano sorpreso 11 mafiosi che stavano tenendo una riunione indranghetista. A prendervi parte erano esponenti delle più potente famiglie della piana di Gioia Tauro, che intendevano confrontarsi per gestire i propri spazi di potere e per spartirsi a palti e tangenti. Per il valore dimostrato durante l'azione e nel tentativo di farli arrendere, i carabinieri spararono per difendersi uccidendo alcuni dei partecipanti, ma colpiti mortalmente dai malviventi perirono sul posto. Ai due carabinieri è stata assegnata la medaglia d'oro al valore militare.